L'orologio cardiofrequenzimetro con fascia toracica Trevi SF150HR è ideale per l'attività sportiva. Tramite la fascia toracica potrai tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e il livello dei battiti raggiunti, che verranno evidenziati sul display ALCD retroilluminato dell'orologio. Per il tuo allenamento ottimale puoi impostare manualmente l'avviso tramite allarme sonoro del livello cardiaco massimo e minimo con cui ti vuoi allenare. Potrai inoltre tenere traccia delle calorie bruciate e visualizzare i dati memorizzati della tua sessione sportiva. Finita l'attività fisica, indossa l'SF150HR come un classico orologio con cronografo, resistente all'acqua, dal design sportivo e dalle linee moderne.